Vangelo del giorno 26 marzo giovedì della quarta di quaresima dal Vangelo secondo Giovanni in quel tempo Gesù disse ai giudei se fossi io a testimoniare di me stesso la mia testimonianza non sarebbe vera c'è un altro che dà testimonianza di me e so che la testimonianza che egli dà di me è vera voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla verità io non ricevo testimonianza da un uomo ma vi dico queste cose perché siate salvati egli era lampada che arde e risplende e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni le opere che il padre mi ha dato da compiere quelle stesse opere mi danno testimonianza e anche il padre che mi ha mandato ha dato testimonianza di me ma voi non avete mai ascoltato la sua voce ne avete mai visto il suo volto e la sua parola non rimane in voi infatti non credete a colui che egli ha mandato voi scrutate le scritture pensando di avere in esse la vita eterna sono proprio esse che danno testimonianza di me ma voi non volete venire a me per avere la vita io non ricevo gloria dagli uomini ma vi conosco non avete in voi l'amore di Dio io sono venuto nel nome del padre mio e voi non mi accogliete se un altro venisse nel proprio nome lo accogliereste e come potete credere voi che ricevete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio non crediate che sarò io ad accusarvi davanti al padre vi è già chi vi accusa Mosè nel quale riponete la vostra speranza se infatti credeste a Mosè credereste anche a me perché egli di me ha scritto ma se non credete ai suoi scritti come potreste credere alle mie parole nel Vangelo di questo giorno c'è un rimprovero da parte di Gesù si diffida di lui non si ha fede nella sua parola nella sua missione nella sua persona si cercano sempre segni ma si dubita dello stesso Signore quanti segni il Signore ci ha donato nella nostra vita della sua presenza e della sua veridicità ma noi di questi segni che cosa ne abbiamo fatti? passa il giorno e già sera e domani sorge un nuovo giorno e di quei segni ce ne siamo dimenticati siamo un popolo molto facile a dimenticare i segni del Signore la sua presenza nella nostra vita i prodigi di Dio nella nostra vita e allora questa parola di oggi questo Vangelo ci invita ad avere un'adesione totale vera sincera reale al Signore di non dubitare di Lui, di non dubitare della sua parola, del suo Vangelo la nostra preoccupazione allora sia quella di una conversione dei nostri pensieri di una conversione dei nostri modi di vivere e di una adesione totale a Cristo